Lunedì 5 marzo alle 11 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, Napoli celebra la Giornata Cittadina per la Sicurezza sul Lavoro con una seduta solenne del Consiglio Comunale. Un'occasione per riflettere sul tema e ribadire il ruolo fondamentale della prevenzione e del controllo a tutela della salute dei lavoratori. Da martedì 13 marzo parte il click day per le reti di imprese. È l'ultimo bando promosso dal Comune nel mese dell'innovazione per favorire con incentivi fino a 10.000 euro l'aggregazione di piccole attività di imprese e rilanciarle sul mercato. Il bando è scaricabile sul sito istituzionale e resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi. Il 29 febbraio sono scaduti i termini fissati dall'Istat per la chiusura delle attività di censimento. Dal 1 marzo non è più possibile compilare il modello via internet né consegnarlo alla posta. Alle famiglie non ancora censite si chiede di collaborare restituendo i modelli presso gli uffici comunali di Piazza Cavour e Parco Quadrifoglio, consegnandoli all'URP oppure ai rilevatori. Da sabato 3 marzo sul ponte di via Cilea torna in circolazione la linea ANM C36. Il servizio sospeso temporaneamente per motivi di sicurezza sarà garantito da tre minibus pollicini che garantiranno per tutta la settimana 80 corse giornaliere a partire dalle 7 fino alle 21.15.